ciao a tutti nuovo video allora questo è un video collaborazione con la covbeats e vi faccio vedere insomma la creazione che stavo facendo io che stavo facendo dovevo ultimare il secondo orecchino ma fiona il mio cagnolino adorato non so che cosa ha fatto cioè non mi tocca me nulla dal tavolo ma neanche il cibo è riuscita a rovesciare il mio e la diciamo questa vi faccio vedere quello che ho raccolto da per terra e mi ha fatto cadere tutto questo e e poi c'era l'altro orecchino e non so perché ci ha giocato io non l'ho trovato completamente distrutto e di questo mi dispiace perché poi ho aspettato a fare il video dove ultimare l'altro l'altro orecchino adesso lo stavo subito rifacendo dov'è il perché mi sono persa tutto sono no arrabbiata però insomma non mi ha mai fatto una cosa del genere ecco non lo trovo l'ho lasciato vabbè poi lo trovo e insomma mi dispiace mi dispiace tanto gli elementi l'ho recuperati l'ho recuperati tutti invece con l'orecchino ovviamente le piattine erano completamente distrutte allora l'orecchino in questione è questo che poi lo stavo terminando e ho usato questa goccia che io vi dico che è spettacolare ha un colore fantastico e volevo abbinare questo diciamo nero fumo è un nero fumo con con il blu non ho voluto mettere altre piattine perché comunque volevo provare anche a mettere la piattina nera ma poi alla fine ho deciso di lasciare completamente blu questo blu che è bellissimo sempre di fin in canto e ho provato insomma con abbinarlo con il con il nero perché adesso fa tantissimo questo blu e gli accessori neri oppure una che ne so tutta vestite nero con una bella giacca blu di questo colore va tantissimo e allora insomma mi sono ispirata a loro qui c'è un filo che devo tagliare va bene però queste come ho messo vi faccio vedere come ho messo le piattine da vicino ovviamente lo devo finire l'altro era finito e va bene purtroppo è andata così poi ho sbagliato perché l'ho smontato subito perché mi sono nervosita quando sono rientrata oggi e ve lo volevo far vedere come l'aveva proprio distrutto mannaggia che ho ho subito insomma lo smontato subito perché volevo farlo di fretta il secondo invece poi alla fine ho detto vabbè tanto faccio vedere questo caso mai subito dopo casomai domani vi faccio vedere completato tutto quanto però volevo fare questo questo video perché già ero in ritardo di farlo e questa cosa mi è dispiaciuta allora voglio parlare voglio parlare di questi questi cabuchon a goccia sempre presi da loro che lì per lì quando l'ho visto molto 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 belli però mi dava un po fastidio il riflesso questo questo colore raggiante che c'è no e poi alla fine comunque montato dove me lo sono perso montato insomma non è male lì per lì ho detto va non ero proprio tanto convinta però diciamo che le piattine vicino ci stanno per io adoro queste piattine poi ho messo come si chiamano queste perline eccomo ora faccio la figuraccia perché non ce l'ho qui vicino a me e sotto c'è scritto il nome tanto io non me ne ricordo le perline c'è poco da fare i nomi ne sono uscite 200 mila le presley forse se non sbaglio comunque vi ripeto che questa coccia è spettacolare fa fa una figura incredibile allora vi stavo parlando e così ho optato per questo blu perché diciamo per adesso in questo momento che arriva arriva l'inverno e usare questi colori insomma giusto il nero blu ecco questo può andar bene anche questo forse anche questo questo color neutro un rosa rosa antico può può anche andare insomma questo sì per l'inverno va bene io ho voluto provare il blu perché non faccio mai creazioni con il blu mai non le faccio mai e insomma io poi questa è la piattina si capisco che è un video collaborazioni però io vi devo far vedere quello che ho usato no di questo colore bellissimo ne avevo ne ho diversi metri di questo che però l'avevo mai mai utilizzato poi volevo far vedere evidentemente ho perso anche l'inizio ma chissà dove l'ho messo mi perdo tutto allora dispiaciuta tantissimo veramente tanto tanto dispiaciuta per questa cosa purtroppo che è successo ma non posso farci niente ovviamente poi il cane lo dimentica anche per cui c'è sgridato fino a un certo punto sono detto no però lei abbassato l'orecchia ha capito ha capito allora ecco qua stavo cercando stavo sto rimontando il tutto l'ho incollato sul con sullo stiff staff l'ho incollato e adesso ho messo la catena che le catene sono molto molto buone devo dire che le catene sono in ottone e sono molto belle scusate sono molto belle le catene e mi piace moltissimo ora devo cucire il tutto perché si può io vi dico si può anche incollare la catena e lasciare così e comunque poi da sotto cucire le piattine ma io cucio sempre la catena che ho sempre paura che si possa scollare ed è brutto e allora io insomma la cuccia però devo dire che questo colore a me piace è molto molto bello questo tipo di blu sono solo dispiace dell'orecchino quante volte ho detto un milione e mezzo però promesso domani vi faccio vedere gli orecchini completamente montati vi faccio vedere montati completamente anche anche il retro fatto mi metto subito al lavoro però era doveroso fare questo questo video e aspettare fino a domani o dopodomani insomma non era proprio il massimo vi faccio vedere il retro perché spesso facciamo vedere avanti ma il retro com'è eccolo allora io non sono ordinatissima lo sapete questi io li lascio sempre vi faccio vedere lo lascio sempre perché comunque mi dà un po di quando poi metto la colla e comunque schiaccio non si non si vede nulla come inutile che poi taglio qui e poi si vede proprio il bozzo e poi devo andare a riempire con qualcosa non è proprio il caso a questo punto le lascio e basta fatto con mi avvicino ecco con diversi fili con sotto fatto il miyuki col filo miyuki in maniera che questo gioco ricordatevi sempre che cambia di filo non mettere quello nylon non sono rimangono talmente tesi che non si muono questo devo ripassare perché forse un po troppo lento voglio che rimani un po fisso così che devo fissare la diciamo questa goccia mette proprio la tosse oggi questa goccia meglio su questa coppetta devo fissare melco di passare il filo anche se l'ho passato ma poi col tempo lavorarci sopra si muove un che cosa dirvi ragazze mi dispiace molto domani vi faccio vedere tutto tutto il completo metti a fuoco ecco qua vi faccio vedere insomma gli orecchini completamente terminati questi elementi già ve l'ho detto a questo tondo è sempre la stessa vi faccio dire anche il colore sempre e che comunque si legge in porcellana io non so se sia proprio porcellana ceramica non mi sembra porcellana mi partono le unghie riprende quello nero ecco che è identico ecco qua è comunque identico questo l'ho presa da un'altra parte per se non sbaglio non ricordo adesso dove però insomma se acquistate queste gocce ci sono anche tonde quadrati ovali insomma ci sono di tutti i tipi allora ragazze io vi saluto non ho più voce di nuovo non ho più voce questo mal di gola proprio non ci voleva faccio subito 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 il secondo orecchino niente proprio si rifiuta di mettere a fuoco faccio subito subito il secondo orecchino immediatamente e li termina metto il perno indietro tutto tutto quanto e domani un nuovo video che li faccio vedere completi perché insomma vedere solo un orecchino così è proprio brutto però insomma dove era da fare o il rossetto porto il rossetto rosso e volevo fare questo video allora un bacione a tutte ragazze ci vediamo domani promesso mi metto subito al lavoro ecco già è pronto che asciutto metto subito al lavoro e ci vediamo domani comunque se volete vedere il tutorial di come incollo cucio e metto le piattine vi lascio il link sotto perché tanto è la stessa cosa non deve far rivedere le medesime cose sempre uguali lo trovo anche insomma noioso per qualsiasi cosa ditemi lasciatemi un commento vi ricordo che sul mio profilo luana appunto dolci riflessi su instagram o due profili 21 dove facciate soltanto le creazioni nell'altro insomma faccio vedere un po di tutto un bacione a tutte ragazze e al prossimo video ciao ciao